Grande tabù. Finalmente siamo riusciti a portare a termine la bomba disgregante. Vera, Besu, trasferite la superenergia. Questa volta sfereremo un attacco al quale nessuno potrà resistere. Desutopia, la fortezza dei Desdak, muove dal suo rifugio sottomarino alla conquista di Tokyo. I Gogor Five la localizzano immediatamente e si preparano al combattimento. Missili, partenza! Missili, partenza! Sono pronto ad affrontarvi. Gogor Five! Gogor Five! Il generalissimo Desmark vi sta aspettando. Sappiate che molto presto la vostra amata Tokyo sarà una città fantasma. La nostra bomba disgregante è pronta finalmente e quando la metteremo in funzione a Tokyo non rimarrà anima viva. Noi ve lo impediremo, non userete quella bomba. In questo momento fareste meglio a pensare a come difendere voi stessi. Spada del male Desdak. Buco nero! Oh, accidenti, la Gogor Energia è in diminuzione. È come se quel vartice l'assorbisse. Spada del male, raggi esplosivi! Akamon! Kudora! Aoyama! Kishima! Miki! Alla conquista di Tokyo! Alla conquista di Tokyo! Bisogna fermarli, stanno distruggendo la città! Ehi, ehi, ragazzi! Siete vivi! Akamon, vi siete salvati! Kudora! Kishima! Sì, vivo! Ayoama! Professore, abbiamo avuto un'idea. Allora, Desmarc, cosa succede? Qui fuori c'è la Gogor Navetta. Che cosa? Controllo, segni di vita a zero. È vuota. I Gogor Five l'hanno abbandonata. È una buona occasione per impadronircene, mio signore. Giusto, Desmarc. Questa è un'ottima idea. Ce ne potremo servire per bombardare Tokyo. Affido a te questo onore. Grazie infinite, mio signore. Go! 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 Presto, andiamo! Ok! Dobbiamo distruggere quella bomba! Giusto! Andiamo! Si dirige verso Tokyo. Di là! Uno, due, tre, via! Indietro! Cerchiamo la bomba! Ok! 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 Vi piace questa? Prendetela! Servitevi di me come pedana! Io vi copro! D'accordo! E' tu! Prendete! E' tu! L'ispuare! E' tu! E' tu! Vittorio e io, proseguiamo. Andiamo. Vai avanti, ci penso io qui. D'accordo. Gogor, spada! Desmarca! Non ti avvicinare, Gogor Rosso. Quello è il vostro signore tabù. Tu non sei degno di pronunciare il suo nome, non azzardarti a farlo di nuovo. Non distruggerete Tokyo, combatti Desmarc. Sei spazzato! Non riuscirai mai a sconfiggermi. La superenergia mi rende troppo superiore a te. Indieco! Gorgor, spada! Maledetto! Acamont! Acamont! Oh, mio signore! Ma che cos'è? Un mostro! Io sono il grande tabù, unico sovrano dell'impero di Destac e futuro artefice della sua immensa potenza. Desmarc, preparati ad affrontare i Gogor Five e ad annientarli! Subito! Desutopia è atterrata! Gogor Five! Non ti temiamo, Desmarc! I Gogor Five ti sconfiggeranno! Non illudetevi prima di quanto non crediate, l'impero d'Ezdac si estenderà su tutta la terra! Avanti! Go! Gogor Fugno! La bomba, mettetela in funzione! Dai! Gorgor Fugno! Go! Star! Go! Yeah! Yeah! Duong! Duong! Chi! 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 Ehi! Fai! 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 Giallo, Godor palla chiudata Blu, Godor cerchio, via Prendete Ora basta Tensmark vi ucciderà tutti Questo, Godor pugno Tutto bene, come on Godor formazione, go Go, Godor spada Spada del male Bucco nero Non avete scampo Go, Godor spada Pronti 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 Via Go Go Godor vibrazioni Godor arpione rosso Bellusi C'è l'abbiamo Fatta È viva Abbiamo vinto È finita Avanti, colpiamo l'ingresso Pronti Missili partenza Evviva 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 Tabu Andiamo Ok Posto uno, partenza Assembliamoci Go Go Godor uno Godor due Godor tre Pronti Pronti all'attacco Eccolo Eccomi Eccomi Eccolo 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 Vi annienterò facilmente Vi annienterò facilmente Maledetti Gogor five Super energia Attenzione A come on Dovete riuscire a respingere il raggio di super energia Ricevuto Ricevuto Go Godor spada Rosso Super lama laser In azione Contatto stabilito Energia galattica Che B 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 Presto, tutta la potenza nella lama laser Ce l'abbiamo fatta Finalmente Vittoria Vabbiamo vinto Finalmente l'impero dei malvagi d'Ezdak è stato annientato I d'Ezdak sono sconfitti Ma ricordate che le forze del male sono sempre in agguato Esiste una sola maniera per annientarle del tutto E cioè costruire un mondo e una società migliori So che è un compito difficile ma sta a voi realizzato Sì, sì Ce la metteremo tutta, non è vero? Ormai i Gogor Five non hanno più motivo di esistere Insieme ai piccoli operatori del computer Hanno assolto brillantemente ai loro compiti Akamon, ossia Gogor Rosso Ha sempre guidato coraggiosamente i suoi amici Anche nelle imprese più rischiose Senza mai indietreggiare di fronte al nemico Ed ecco Kudora Gogor Nero Sempre pronto ad intervenire al momento opportuno Incurante del pericolo Agile e veloce come una fantena Aoyama, ossia Gogor Blue Atletico e robusto come un campione sportivo Ma nello stesso tempo sensibile e paladino dei bambini Ecco Kishima Gogor Giallo Un simpatico temerario pronto a tutto Ma dal cuore tenero e generoso La sua arma è la forza fisica Ma non è un violente La dolce Miki Gogor Rosa Bella ed elegante Capace di affascinare con un sorriso Ma nello stesso tempo audace e coraggiosa Sempre pronta a difendere i più deboli Il piccolo esercito dei Gogor Five si scioglie Ormai ha assolto il suo compito Grazie Sappiate che non vi dimenticheremo mai Valorosi Gogor Five Grazie 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 Grazie